Era bello, ho conosciuto i politici e ho conosciuto il loro lavoro e com'è questo lavoro. Il Consiglio Provinciale dei Bambini era veramente un evento con tanto successo perché più di 300 bambini e giovani hanno frequentato questo evento e hanno dimostrato a noi che hanno tante opinioni su tanti diversi temi e che è importante ascoltare anche a loro. È stata veramente una bella esperienza perché abbiamo potuto parlare con i politici, vedere dove parlano tra di loro e dove si dicono le regole. E' stato interessante anche perché c'erano tantissimi bambini di tutto l'Alto Adige e allora ho fatto anche tante amicizie. Oggi sono venuti tre ragazzi che hanno anche partecipato l'anno scorso e loro sono molto interessati nella politica e nei temi, anche nel dire della loro opinione. Grazie. 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 Grazie.